Ciao, ho trovato un reel che ripropone i paccheri da Vittorio, il ristorante. E visto che tutti parlano di sti paccheri, sono paccheri al pomodoro, però c'è lui che li ripropone, ci mette, fa la ricetta. Proviamo a farli! Questo è Chef Andogno La Cava, se volete seguirlo. È giusto dare i crediti a quelli da cui prendo ispirazione. Sono andata a fare la spesa, come avete visto, e ho preso pomodorini ciliegini, salsa di pomodorini ciliegini e dei pomodori pelati. Non c'erano quelli di San Marzano, strano, perché di solito trovo solo quelli, invece oggi ho girato, c'erano 4 scaffali di pomodori pelati, neanche uno San Marzano, vabbè. Ok, cominciamo. Allora no, qua c'è scritto 35 euro a porzione, costano da Vittorio, ci sta. Ecco perché sono famosi, saranno la roba che costa meno. Cominciamo. 80 grammi di olio, uno spicchio d'aglio e del peperoncino. Io ho sempre questo, quindi il prezzo già scende da 35 euro a 28 secondo me, per la mancanza di peperoncino fresco. Facciamo soffriggere qualche minuto. Intanto prepariamo i pomodori e a questo punto aggiungiamo tutti i pomodori. Saliamo, copriamo e lasciamo cucinare. Ok. Nel frattempo facciamo dei crostini, perché sennò Marta non dura un'ora. No dai, lo faccio cucinare meno di un'ora, tipo secondo me 45 minuti. Visto che ho comprato un sacco i pomodorini. Questi giovani danno tutto per scontato. Intanto qui la situazione è questa. Ho trovato la ricetta completa, quindi vi metto il link in descrizione. Mettiamo sull'acqua per la pasta. Ho spento qua i pomodori. Perché direi basta. Adesso si serve il frullatore. Come paccheri uso quelli rumo, normali. 13 minuti, top. Alexa, metti un timer tra 13 minuti. 13 minuti, a partire da un'ora. E che cazzo. Bellissima. Ora dobbiamo passarla sul colino per togliere le impurità. Eventuali impurità. Io ho il mio colino piccolino. Io ho il mio piccolino. E non è che scenda tanta qua la situazione. In effetti sono rimaste delle impurità. E ecco qua quello che è rimasto. Ora, utilizzeremo questo parmigiano reggiano 24 mesi. Lo farà Marta. Ho assaggiato, è molto buono. Ci serve... lo grattugia Marta, grazie. E del burro. Ho scelto il burro dalla torre. Non è mio, però potrei... Eh, guarda. Non lo faccio io, però se volete, se c'è qualcuno di dalla torre che sta guardando questo video, se volete sarò il vostro Gerry Scotti. Come Gerry Scotti con riso scotti, io faccio col burro dalla torre. Adesso vediamo se è buono, però penso di sì. Un nome e una garanzia. Ah, che bello. Oh, guarda, è diviso più o meno. Che brava. Che manualità. Facciamo tipo così. Ok, buttiamo i paccheri, buttiamo il burro e buttiamo il grana. E mantechiamo, io non so mantecare. Come si manteca? Forse è per quello che loro sono bravissime a mantecare da Vittorio. Lei dice una pentola gigante? Non penso si faccia così. Eh, devono essere bravi a mantecare da Vittorio. Ah, scusa, ma Vittorio la mamma? Cioè, è ancora vivo. Tipo la Clemy? Vabbè, sono così. Non lo so comunque, non so quanto sia vecchio sto Vittorio. No, tosto, non mangiarlo. Beh, perché no? Boh, ok, mangialo. Et voilà, et voilà. Andiamo ad assaggiare. Allora, il colore è quello. Assaggiamo. Sono tanto buoni, ma proprio tanto. Il burro dalla torre si sente molto e molto buono. Futuri collaboratori. Non è stato neanche difficilissimo fare questa versione. Allora, io sono sicura al 100% che da Vittorio sono più buoni. Però. Buoni? Ottimi. Li pagheresti 28 euro perché non ho messo il peperoncino buono e l'ora ho abbassato il prezzo. Dipende che tipo di esperienza ho con questi 28 euro. Mentre guardi Shameless. Sì, allora sì. Sono buoni, buoni. Vi lascio la ricetta in descrizione. Io adesso mi guardo Shameless. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Comunque alla fine, cioè loro tipo useranno l'olio strabuono. Io ho usato il dececco, no? O anche i paccheri e i pomodorini magari li allevano loro. Io invece ho preso le robe in sconto. Cioè penso che... Come? Penso che il prezzo cambia anche così, no? Cos'è che? Ma mi segui o no? Va bene, 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 bene. Va bene.